Non siamo il fronte del no a prescindere, siamo il fronte del no alle cose fatte male, che hanno un impatto ambientale sbagliato sul nostro territorio e che delineano un modello di sviluppo che non vogliamo per il nostro territorio. Con il decreto di via, tra l'altro, vengono rimandate successivamente tutta una serie di approfondimenti tecnici sui rischi ambientali e sanitari che noi vogliamo che vengano fatti prima e siamo convinti che su questo il giudice amministrativo riconoscerà le nostre ragioni. Complessivamente sono quattro i ricorsi alla giustizia amministrativa contro la valutazione d'impatto ambientale per la nuova pista dell'aeroporto di Firenze presentati o in corso di deposito da parte dell'amministrazione di Prato, Sesto, Campibisenzio, Calenzano, Carmignano, Poggio, Acaiano, Signa questi ultimi hanno promosso insieme un unico ricorso. Territori di sette comuni che rappresentano, sottolineano, 400.000 persone territori che soprattutto rifiutano di essere considerati come quelli contrari allo sviluppo sono favorevoli invece a uno sviluppo incentrato sul parco della Piana che con la nuova pista andrebbe praticamente a morire il ricorso al TAR è stata una decisione sofferta, spiegano e uno dei punti chiave della decisione, soprattutto alla base della scelta di Prato di aggregarsi al gruppo è stata la mancata ammissione all'osservatorio ambientale sull'opera d'altra parte l'invito all'osservatorio non sarebbe bastato a far cambiare loro idea visto che ritengono quest'opera sbagliata nel suo complesso il sindaco di Firenze Nardella aveva invitato i colleghi a un confronto è un po' tardiva diciamo questa apertura e soprattutto non è nelle sue mani credo la possibilità di ridiscutere un decreto già firmato dai ministri credo che la discussione abbia preso una piega completamente sbagliata con la pista parallela c'era la possibilità di mettere in sicurezza quella attuale ad esempio l'interramento dell'autostrada ad esempio con gli interventi di mitigazione acustica e ambientale sulle abitazioni che sono più impattate io ribadisco che c'è sempre tempo perché fino a quando non si arriva nell'aula di un tribunale si può sempre lavorare insieme ci sono le condizioni, è una proposta trasparente detto questo noi continueremo se ci sono contrarietà di principio è difficile trovare delle soluzioni io credo che i cittadini si aspettano dalla politica e da tutti i politici il coraggio, la pazienza e la tenacia di cercare soluzioni litigare non funziona mai i nostri cittadini non vogliono vedere la politica che litiga né tantomeno vuole vedere la politica che litiga nelle aule di tribunale adesso adesso Grazie a tutti.